Sì, sono venuto in Sicilia per assaggiare i mitici arancini, scherzi a parte, per vedere le montagne qua, il panorama e un po' le diversità che c'è tra qua e noi. La Sicilia mi piace perché i gelati sono buonissimi. Mi piacciono gli europei in Sicilia, primo perché è caldo, secondo perché i dolci sono grandi così. Mi piace l'idea di sciare a vista mare perché a Bormio non è mai successo. Mi piace gli europei in Sicilia perché è la mia prima volta in azzurro. Sono contento che gli europei sono qua in Sicilia perché ho già sciato qua anni fa e sciare qua è una figata. Mi piace gli europei in Sicilia anche se verrei qua al mare volentieri. Dal ghiacciaio dei forni, da Rifusio Branca, un salto all'Etna perché volevo provare a sciare sul vulcano. Questi europei mi piacciono per la location e gli arancini, sapete come si mangia qua. Mi piace questo europeo perché mi ha permesso di venire a visitare un posto bello come la Sicilia e andare a sciare sul vulcano dell'Etna, bello. Oh, andate a farvi un giretto. Stai qua anche te, gemello. Stai qua. Ma tu ti dici anche a me piace l'Europa in Sicilia? Ho deciso di venire in Sicilia a sciare perché... Ma che ho deciso? Ti hanno convocauto? Mi hanno portato in Sicilia a sciare. Sono contento. Questi europei mi piacciono, si è parla... Eh, ho sbagliato. Mi piace. Mi piace.